Noi abbiamo iniziato a fare azioni, ma non erano ancora i GAP, i GAP quando sono nati? Sono nati all'inizio di ottobre, ci sono state due riunioni, in quell'occasione ci siamo trovati i quattro che hanno costruito il primo GAP centrale, Mare Fiorentini, Giulio Cortini, Carlo Salinari e Danilo Nicli. In questa riunione che cosa venne deciso? Che elementi particolarmente arditi che già si erano distinti nel fare delle azioni, venissero staccati dalle zone, perché io ero della quarta zona, Salinari era della sesta zona, dice no, bisogna che i GAP vengano staccati dalle zone, non hanno più rapporti con gli altri, si devono isolare e fornare dei gruppetti di volontari che fanno azioni particolarmente difficili. Allora noi stavamo staccati dalle zone.